Un percorso che sembra una fiaba, dal borgo fantasma al castello, in cima alla rocca. Ombre perdute nei ruderi antichi, un passato che viecheggia, sorgenti che risuonano ai piedi della rocca lontomarda da scoprire. E poi, al di là delle imprese e degli uomini, la meraviglia di uno splendido albergo diffuso, incastonato nella roccia forte e autentica. Nel silenzio, tramonti placidi e possenti, vieni con noi ad ascoltare gli antichi racconti. Scoprirai tradizioni, sapori indimenticabili e panorami dal verde mozzafiato. Infoeripigna. Emozioni in viaggio.